Bene, tutto grazie per il caffè. Volevo chiederti un feedback rispetto a come ti sei trovata con la nostra squadra, quindi con Sergio, il nostro direttore cantieri, con i nostri posatori o i ragazzi che ti hanno installato i mobili, la cucina, i bagni. Cosa mi racconti? Sono rimasta molto colpita dal fatto che alla Pellizzari esista una figura di riferimento come Sergio, che segue il cantiere in tutte le sue fasi e che è sempre estremamente disponibile anche quando il cliente è al lavoro o non ha la possibilità di seguire in prima persona l'avanzamento dei lavori. Quindi c'è sempre questo referente, questa figura molto professionale che rende tutto molto più semplice. Bene, quindi il nostro Sergio ha superato la prova. E con i montatori della cucina sono stati bravi? Hai avuto qualche problematica, qualche difficoltà in fase di installazione? Anche per quello che riguarda l'installazione dei vari mobili, soprattutto il piano cucina, che è stata la fase più complicata e delicata, soprattutto per le dimensioni. Gli installatori sono stati estremamente efficaci e professionali, molto gentili, disponibili, ma soprattutto veloci. Bene, 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 ottimo. Bravo a tutti e allora ragazzi.